Secondo spazio informativo per le previsioni del tempo da Arpa Lombardia, Edoardo Peroni. E di nuovo buongiorno. Ci aspetta oggi una bella giornata di sole. Cominciamo a vederlo con la previsione per questa mattina. Sereno su tutta la regione, con ventilazione debole per lo più proveniente da ovest. Nel pomeriggio, come vediamo dall'immagine, la situazione non cambia. Il cielo si mantiene sereno su tutto il territorio. Anche per la sera nessun fenomeno significativo, a parte qualche foschio o nebbia in formazione nelle ore notturne sulla bassa pianura. Temperature massime oggi in leggera risalita, comprese tra 12 e 15 gradi. Vediamo quindi rapidamente cosa ci aspetta per domani, una giornata sostanzialmente simile a oggi, prevalentemente soleggiata e con temperature relativamente miti. E per il meteo è tutto. Grazie per l'attenzione e arrivederci a domani.